Sandano Cito, Foti, da Bisarda, da Paola, Arena, Riolo, Pitrano, Galasso, Rosso, Cerdello, La Spina, Generello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Bozanga, Orlando, Russo, Sanghi, Poglisi, Giacconi e Marchese. Quindi il re, il re presente della statuta è valida, nominiamo gli scrutinatori, un attimo, quando nominiamo gli scrutinatori, io ancora un uomo non ci sono, non sono un uomo, cioè prendendoci, ci sento e ci vedo. Non l'ho chiamata? Come è la compagnia del suo amico caro. Allora, nominiamo gli scrutinatori, Monaco, Sandano Cito e Zanghi. I vicerubani ad inizio di seduta, se potete anche vi potete accomodare. Passiamo al primo punto, l'ordine del giorno. Prego, una comunicazione, per favore, signori consiglieri. Sarò in speciale. Allora, inseris, non è un uomo. Che succede, signori? Allora, inseris, non è un uomo. Che succede? Va bene, va bene, va bene. Adesso sì, adesso sì, funziona. Adesso è funzionante. Adesso è funzionante. La comunicazione era, signore consigliere, signor presidente, signore assessore. Signor assessore. Certo, signori. 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 Come avete potuto apprendere, in questi giorni è arrivata la notizia che si è formato un nuovo gruppo a Mister Bianco. Già abbiamo dato comunicazione attraverso gli uffici, abbiamo dato comunicazione anche al presidente del Consiglio Comunale. Il nuovo gruppo che è composto da me, da Nunzio Sandano Cito e da Matteo Marchese. Abbiamo disegnato come capogruppo Matteo Marchese. Una cosa volevo dire quando riguarda, è dall'anno scorso del mese di settembre che si cercava di formare questo gruppo anche con altri. Non ci siamo riusciti a farlo e quindi ora abbiamo deciso finalmente dall'anno scorso, perché dall'anno scorso che proviamo a formare questo gruppo, discutendo, non discutendo, come possiamo fare, come possiamo andare avanti, finalmente siamo riusciti a organizzarci. Il nuovo gruppo che è Mister Bianco Futura. Il nostro obiettivo è quello come ci siamo sempre comportati nel nostro modo di fare, nella nostra etica. Continueremo con impegno il lavoro in Consiglio Comunale sia all'interno che sia all'esterno. Noi siamo aperti a tutti quanti, sia alla cittadinanza, sia ai consiglieri comunali, siamo pronti a dialogare con tutti quanti, perché se no non ci fosse la politica finisce la democrazia se uno non dialoga. Per noi il dialogo è importante, quindi opereremo nel bene e nel bene del nostro territorio, perché la cosa più importante è questa, perché il nostro territorio ha tanto bisogno. Quando io dico territorio dico tutto il nostro territorio, Mister Bianco, attenzione non faccio nessuna specifica, Mister Bianco, tutto quanto il nostro territorio. Spero di poter andare avanti, ragionare con tutti quanti, noi vogliamo ragionare, sederci e discutere con tutti quanti, non facciamo nessuna distinzione. Rosso, giallo, verde a noi non interessa, interessa lavorare per il bene della nostra comunità. Grazie Presidente, questo era quello che volevo comunicare. Grazie consigliere Giaccona, se c'è il documento lo possiamo. Io ce l'avevo già, quindi prego. Buon parere. Prego, prego, sentiamo che sia oggi. No, intanto ringrazio il Presidente perché, come di consueto, ci ha fatto subito, passato la comunicazione che si era costituito questo nuovo gruppo. Come al solito, ci è arrivata subito la comunicazione. Per carità, non lo metto in dubbio, ma intanto ringrazio il Presidente che, come al solito, subito si è apprestato a comunicare al Consiglio Comunale o ai gruppi che compongono il Consiglio Comunale questa comunicazione. Detto questo, volevo solamente augurare al nuovo gruppo la mia massima disponibilità alla collaborazione testè detta dal Consigliere Giaccona. Ma sono convinto, conoscendo i consiglieri testè nominati dal Consigliere Giaccona, cioè lui, Santonocita e Marchese, che questa era già una collaborazione e una partecipazione all'interno dei lavori del Consiglio, che era già stata, e sarà solamente, ancora più consolidata. E non solo consolidata, io dico consolidata e per fortuna orientata verso un progetto politico, che è quello di un gruppo politico. Perché ritengo che la mancanza di riferimenti politici ultimamente abbia abbassato di molto la qualità della politica. Quindi ben venga la costituzione di un gruppo politico all'interno del Consiglio Comunale per confrontarsi insieme per la salvaguardia e il miglioramento della nostra collettività. Grazie. Grazie, consigliere Galasso. Non ci sono altri. Benissimo. Grazie, consigliere Giaccona. Allora, passiamo al primo punto, all'ordine del giorno. Primo punto, all'ordine del giorno, proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, approvazione, regolamento, fognatura e depurazione. Ci abbiamo il Presidente? Se vuole dire qualcosa il Presidente, se vuole illustrare il regolamento un attimino, possiamo anche farlo. Se no, passiamo direttamente alla lettura. Un consiglio sovrano, sono stati invitati a me. Il Consiglio possiamo... Il Consiglio, se decidi, ci abbiamo qua eventualmente la figura del Segretario. Allora, signor Presidente, prego, consigliere Ricciardello. Assessore. Io è stato... Abbiamo fatto... Abbiamo... L'ultima commissione è stata settimana scorsa, in cui è venuto l'assessore in commissione. Abbiamo avuto dei chiarimenti. Infatti possiamo guardare l'ultimo verbale che è stato citato dalla commissione. La cosa che però io penso che... Non di voi, lo dicono gli altri, il Presidente. Manca il funzionario e l'assessore. Perché giustamente, sul regolamento vedo che è importante, almeno... Almeno, ci dovrebbe essere l'assessore e il funzionario. Questo è... Se possiamo... Noi, casomai, possiamo... Telefoniamo, possiamo... Se viene fra mezz'ora, passiamo all'altro punto, all'ordine del giorno. Casomai, se volete, possiamo leggere il regolamento, possiamo leggere l'ultimo verbale. Perché, mi ricordo, mi ricordo, in questo regolamento noi lo stavamo per votare. Poi sta... Perché non ci pensi, perché sono cose già da tempo. Poi l'ambistazione l'ha ritirato, si è portato in commissione, sono fatti degli emendamenti. Adesso la commissione ha esitato questo regolamento di nuovo. Abbiamo, è portato qualche modifica, assieme all'assessore, alla commissione, eravamo tutti d'accordo, quelli che erano presenti, che poi lo possiamo dare, lo possiamo guardare nel verbale che è fatto. Ma adesso, io penso che non si può trattare perché c'è... Grazie, non digliere lì cerdello, di trattarlo lo possiamo anche, se vogliamo, se il Consiglio è all'unanimità, lo possiamo anche, incominciare, si può anche incominciare a parlare, eventualmente, se ci saranno degli emendamenti, visto che la commissione, che i verbali ci sono, se vogliamo, possiamo benissimo incominciare a trattarlo. E eventualmente, se c'è qualche emendamento, che non lo possiamo fare, ci blocchiamo e passiamo a un secondo punto all'ordineo. Se volete, se il Consiglio lo decide, se no, prego, consigliere il regalazzo. Io ho massima disponibilità a trattarlo, però vorrei dire al Segretario che ci saranno sicuramente degli emendamenti tecnici. Se lui se la sente di opporre la firma, perché io già lo so, i componenti della commissione già lo sanno, perché ne abbiamo discusso continuamente e abbiamo detto, in Consiglio Comunale, eventualmente, lo modifichiamo e presentiamo gli emendamenti. Quindi, già appena cominciamo a leggere, io chiederò la sospensione per dire, altrimenti, devo presentare un emendamento, il tempo di elaborarlo, scriverlo. Quindi, voglio dire, che senso ha? Perché ne abbiamo parlato, mi pare, Presidente, non so se è presente. Presidente, cioè, quindi, con questo spirito, voglio dire, che senso ha cominciarlo? Ci deve essere il funzionario, non tanto l'assessore, perché sono emendamenti tecnici, ma il funzionario è indispensabile. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere. Prego, Presidente Licciardello. Io mi ritrovo d'accordo con il commissario... No, i giusti non ne abbiamo fatti e non ne facciamo, perché ognuno lavora con il suo... Ognuno la pensa diversamente, politicamente, perciò non è questo. Però, si può anche essere d'accordo su certe tematiche. Infatti, l'ultima commissione che abbiamo fatto, che forse il commissario Calasso, non so se era essendo o magari è venuto dopo, non mi ricordo adesso, ma non c'era. C'è stato l'assessore e quasi eravamo d'accordo come commissione. L'assessore non c'è. Ah, tu non c'è. Comunque, non mi ricordo, ora io devo guardare per barri, devo guardare per sede. E abbiamo, sono stabiliti dei criteri che più o meno si potevano andare avanti. Comunque, purtroppo, se cominciamo a trattarlo, poi ci sarà qualche... Se faremo un prendimento tecnico, perché noi, nessuno può fare per sede. E per non trattarlo. Come? Lei è per non trattare oggi, visto che manca i funzionari. No, non c'era solo. Io, per me, potremmo anche trattarlo. Allora... Però, il discorso è che se poi c'è qualche rendimento, che facciamo? No, non lo so. E allora dobbiamo votarlo. Ma a mano si può... Il segretario dice, possiamo iniziare benissimo. Perciò, quindi, eventualmente, eventualmente ci blocchiamo. Quando c'è ne vendimento, aspettiamo. Chiamiamo, se spesa. Prego, consigliere... Grazie, consigliere Ricciardello. Prego, consigliere Giacquano. Io volevo un attimo avvisare il Consiglio Comunale. Attenzione, io sono d'accordo per fare il regolamento. Lo possiamo fare. Possiamo andare avanti e sappiamo quello che c'è in questo regolamento. Però, stasera voglio dire una cosa. È anche vero che noi lo trattiamo, il regolamento. Però dobbiamo sapere tutti quanti che forse, dico usi il condizionale per il semplice motivo, perché forse, Maria Antonia ti prego, perché è una cosa che interessa tutti quanti, forse dovremmo aspettare il piano regolatore, prima, vedete cosa sto dicendo, prima di votare questo regolamento, perché dovremmo capire effettivamente che cosa c'è là sotto. In quella zona, se è una zona idrogeologica, come viene definita nel piano regolatore e come sarà portata avanti, che oggi noi ancora non conosciamo. Attenzione che è una tematica molto importante. Io mi impegno a votare il regolamento, ma non posso, non posso in questo momento obbligare i miei concittadini ad andare a pagare. Ascoltatemi un attimo per piacere, perché se dico questo c'è una motivazione ben precisa, non lo sto dicendo perché mi piace dire una cosa del genere, c'è una motivazione ben precisa, quello che sto dicendo. Quindi significa che prima che io vado a votare, lo voglio votare, lo voglio guardare attentamente, lo dobbiamo valutare attentamente. Ma prima di fare questo regolamento, io desidero conoscere, come noi consiglieri comunali, dovremmo conoscere che cosa c'è là sotto, che significa quel passaggio idrogeologico. Se questo depuratore è stato veramente, veramente, dico, collautato, ricollautato, rivisto, noi sappiamo che noi, noi consiglieri, che abbiamo visto con i nostri occhi, abbiamo visto tutto quello che c'è là sotto, la frana, i problemi che ci sono, commissari o non commissari che arrivano. Però io sono convinto di una cosa, e dico una cosa, che sicuramente al genio civile, che nessuno ci dice, ma si capisce, c'è qualche piccolo problema che verrà superato, per carità di Dio. Io dico di sì, per carità, però è anche vero che prima di andare avanti e fare questo passo e dire ai miei concittadini, dobbiamo andare, che poi questo entreremo in merito, pagare, non pagare, chi deve pagare, chi non deve pagare, come si devono allacciare, entreremo in merito. Ma io voglio solamente dire, voglio capire, non dire, voglio capire cosa c'è là sotto, cosa c'è, quel depuratore, come è combinato, se effettivamente è vero che noi, Marcello, la ringrazio, la ringrazio, capire, e poi noi capire effettivamente cosa c'è. E' una cosa di una importanza enorme, e non riguarda solamente me, ma riguarda la nostra cittadinanza. Quindi io dico, attenzioniamo attentamente questa vicenda, attenzionamola bene, vediamo cosa c'è, cosa non c'è, vediamo cosa arriva quando ritorna il piano regolatore dal genio civile, vediamo cosa, quando ritornerà, ma non esiste, ma non esiste, perché questo lo affermo, lo dico, che il piano regolatore è al genio civile, quindi è al genio civile, quindi piano regolatore, noi ancora Mr. Bianco non ce l'abbiamo, quindi ancora è tutto sulla canna adesso. Quindi lo dico, lo affermo e lo confermo che è così. Quindi io vi chiedo a voi, vi chiedo a noi tutti i consiglieri di stare attenti e dico stasera, effettivamente sia il Presidente sia qua, rinviamolo questo regolamento. Aspettiamo che arriva una documentazione vera, chiara e noi sappiamo cosa dobbiamo fare, ma deve essere che dobbiamo conoscere tutti quanti se effettivamente tutto è in regola. Io vi chiedo solamente questo di qua e affermo ancora una seconda volta il piano e fermo al genio civile. Quindi fino a poco fa era fermo ancora al genio civile. Grazie. Grazie, Consigliere Giacconi, Caruso. Grazie Presidente, Assessori, colleghi, consiglieri e gentile pubblico. Io sinceramente ho un momento di confusione per cui Presidente tramite questo civico consesso vorrei fare una richiesta personale al Presidente dell'Ottava Commissione. Ci state dicendo che questo regolamento che ormai è troppo, troppo tempo, da troppo tempo deve essere approvato, ebbene è stato una volta ritirato, poi è stato di nuovo discusso, avete avuto la presenza dell'assessore, avete avuto la presenza del funzionario. Mi soggio di rispondere a una domanda. Questi emendamenti che stasera vi state dicendo dovevano essere apportati qui e quindi approvati qui, ma dovete farlo anche in Commissione, arrivare già in Consiglio Comunale con degli emendamenti con un regolare visto sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista soprattutto tecnico. Quindi, delle due, una, o veniamo preparati o non lo mettiamo all'ordine del giorno. Io sinceramente è svilire il senso del Consiglio Comunale, venire qua. Io sono qua pronto a votarlo, attenzione, anche perché io vorrei dire una cosa, non capisco e chiedo scusa, probabilmente stasera non sono al 100%, non capisco la dinamica fra piano regolatore e noi dovremmo normare, regolamentare in maniera chiara un motivo per cui alla gente ci chiediamo, la gente ci chiede di allacciare e noi gli stiamo dicendo dovete allacciare in questo modo o in quest'altro modo. Io ritengo che sia più utile. Non lo so, sto chiedendo numi, chiedo numi perché sono qui per votare, chiedo numi, forse conviene di più avere degli allacci perché se è vero come è vero che le utenze che pagano vanno a costruire un fondo per la salvaguardia anche del depuratore, cioè fatemi capire noi cosa dobbiamo fare. Io ve lo chiedo con la massima umiltà perché sicuramente non avendo potuto partecipare al lavoro di commissione, stasera, Presidente, chiedo questo chiarimento, se è il caso, poi mi unisco e finisco l'intervento e poi finisco l'intervento e questo però è una richiesta che faccia lei, Presidente, è una richiesta che faccia lei. C'è una parte politica, una parte politica e una parte tecnica. Entrambi chiedono a questo Consiglio l'approvazione di una delibera. Io le chiedo, Presidente, lo so che lei ne invita, però richiedo rispetto a questo Consiglio Comunale perché se il Consiglio Comunale deve approvare una delibera non può mancare nell'assettuto del Consiglio Comunale il funzionario che questa delibera ha prodotto. nel rispetto delle persone che veniamo qua. Grazie, Presidente, sono stati invitati, lo dico e qua abbiamo l'ora del giorno quegli inviti, io il mio dovere l'ho fatto. ho guardato adesso la delibera, manca l'ultimo verbale. ho guardato adesso il Consiglio Comunale, ma io parlo del Consiglio Comunale, ma io parlo del Consiglio Comunale, il Consigliere Caruso, allora, il regolamento è una cosa, il depuratore, tra l'altro ve l'ho detto, è un'altra cosa. Oggi il depuratore è commissario, voi non so se sapete, penso che lo sapete, lo sviluppo delle fognature, e ce l'ha tutto in mano il commissario, però il regolamento è un'altra cosa, noi dobbiamo regolamentare il Comunale, come si deve mettere le fognare, cosa si deve fare, cosa non si deve fare, questo Consiglio deve fare il regolamento, poi, poi, la parte tecnica, o se il depuratore non funziona, uno fa una denuncia alla Procura della Repubblica, sull'acqua inquinata, che denuncia a qui che c'è la responsabilità, ma io penso che il regolamento è un atto dovuto di questo Consiglio, carissimo collega, poi, se non si può trattare, non mai può funzionare, è un'altra cosa. Ah, questo è l'ultimo verbale, grazie, consigliere Ricciatello. Qual è l'ultimo verbale? Terminato? E lì l'ultimo verbale c'è, me lo dai per fare che io lo leggo? Dammi qua, dammi qua. No, aspetta, però, te lego l'ultimo verbale. Perché dà l'ultimo verbale? Non ne. Questo è il sapere voi, che ci si chiama il regolamento è mai connesso. Dove sono gli avventamenti, Presidente? Dove sono gli avventamenti? Sotto un verbale. Un uomo, un uomo, un uomo. Sotto un'altra scorsa. E uno in testa. Io ho un uomo, 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 un uomo. Sette, frattempo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo. Vabbè, chiude un attimino che cerchi il verbale. Ok, chiude, chiude. Grazie, consigliere Ricciatello. Prego, consigliere Calasso, prego. Allora, Presidente, intanto mi deve permettere un inciso. Prima di dire la motivazione per cui ho preso la parola. Volevo dire che sicuramente l'ingegnere Marchese stasera non sarà qua probabilmente per un disguido. Perché è un funzionario che ogni qualvolta è stato chiamato. In modo particolare, in commissione, è sempre stato presente. E anche in consiglio. Quindi io sono convinto che ci sarà stato un disguido e quindi non è presente stasera. Per questo motivo. Sicuramente sarà questo. Voglio dire, non è soggetto che bisogna rincorrerlo per farlo venire. Detto questo, Presidente, io... Scusate, io ti sono costretto, visto che lei sta facendo questo inciso, no, a leggere... Perché ho ricevuto una lettera dell'ingegnere Marchese. Ecco, vedete... Mi permette, con un riferimento, un attimino, all'invito a partecipare al Consiglio Comunale, di cui il produttore, il sottoscrizzo, Luciano Marchese, ingegnere, la qualità è responsabile del 10 settore. Va bene. Fa presente che nel giornale del 16 marzo, 16 marzo stiamo parlando, e se potesse che ancora la febbre continua, un momento. D'accordo. A riprova di quanto io stavo dicendo. Detto questo, Presidente, io le chiederei se il Consiglio è d'accordo, una sospensione, una sospensione del Consiglio per 10 minuti, per vedere un attimino di raccordarci come andare avanti, perché ci sono altri due punti all'ordine del giorno. D'accordo. Grazie, Presidente. Non ci sono... Uno contrario, va bene. Sospendo il Consiglio per 10 minuti.